Il governatore e sua eccellenza Caroselli, seguito dalle maggiori autorità della colonia, all'aeroporto di Mogadiscio forge il primo saluto della Somalia a sua altezza reale il duca d'Aosta, vicere d'Etiopia, proveniente direttamente in primotore da Addis Abeba per visitare la nostra colonia dell'oceano indiano. Il volo da Addis Abeba a Mogadiscio, svoltosi con perfetta regolarità, è stato coperto in poco più di tre ore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.